SINI dell'Istituto di istruzione superiore Vincenzo Dandolo di Barniano-Corzano-Bresch. Premetto una cosa, come dicono qui a Napoli che ogni scarafone è bello mamma soia, anche la mia scuola è la più bella, anche se mi dà qualche grattacapo e qualche problema che ormai è diventato la normalità, mi preoccupo quando non c'è il problema, consiglio, problemi che avete illustrato ma anche altri, gli ispezioni sono ormai di normalità, ATS, guardia di finanza, NAS, anche la CONSI può avuto, è venuto anche quello della CONSI, ma è la scuola più bella non solo per l'azienda agraria che ho, il vigneto, il piccolo caseificio, l'uliveto e altro, ma anche per la ricchezza di umanità che c'è nelle nostre scuole, i nostri alumni, i nostri insegnanti e tutto il personale, questa è la vera forza che ci porta avanti. Poi ho quattro indirizzi su quattro sedi, l'istituto agrario quello che ha circa 700 allumni, poi ho un istituto alberghiero, un altro istituto agrario allonato del Garda perché oltre alla bassa mi spingo anche sul lago di Garda, poi un tecnico turistico e alla fine abbiamo avuto la sperimentazione, come ho detto prima, un quadriennale tecnico agroalimentare. Questa è la mia scuola, devo dire un'altra cosa che mi sfugge, bene, abbiamo un vigneto sperimentale con l'Università di Piacenza, nella bassa Bresciana, se ci va bene, poi andiamo all'assalto del Franciacolta.